di Milano? a Roma bella città così piccolo abbiamo di figure un maschio ma come è carino questo gatto benvenuto al Marocco a Sawira sono una coppia gentile qual è il nome? Mahjou e qui è tutto fatto a mano benissimo questo fatto a mano benissimo come si chiama? Ciuia Ciuia è l'albero legno di Ciuia benissimo benvenuti a tutto il follower a Sawira tutti sono italiani allora? no a tutto il mondo no a tutto il mondo benvenuti a Sawira benvenuti a Sawira è stato nel deserto? sì l'anno scorso Merzuka o Shikaga? sì mi ricordo Zagore sì come è un'agenzia? sì è un'agenzia come si chiama la compagnia? ah no perché ci ha dato un amico e lui è l'organizzatore di viaggi si chiama Viaggi al deserto si è compagnia no noi abbiamo preso vicino la piazza si sono già nel finale ah loro sono là già nel finale ah no lui è solo per internet ah no ok ok noi abbiamo inventato quanto è a Shikaga non Merzuka perché tutto il mondo si andrà a Merzuka noi siamo stati a Merzuka e a Shikaga a Shikaga a Shikaga 60 km di forestra sì fatto per jeep solamente le due o con un blocco? no andiamo in due si poi mettono assieme a Shikaga anche sì bello bello e tu sei di quelle zone? io sei vicino di Shikaga Bahaani ogni villaggio Bahaani dove vai? a Shikaga noi a Shikaga versato la ceramica verde siamo in gruzzi chiamati siamo nel villaggio dove c'è la ceramica di lena esatto il villaggio verde questo è Aizbenhaldur vicino di Warzazate dove è tornata la pericola nei film sì sì noi ancora sul sud il mio villaggio si chiama Zagora Zagora ci sono stati Zagora? ci sono stati Zagora? ci sono stati Zagora? no questo è Aizbenhaldur dove c'è nato molto palmerale Zagora vicino di A Shikaga dove c'è il letto del fiume? no questo sono le palme ci sono passati in me questo è il Todra il gole del Todra siamo stati anche là ma siamo stati anche nel palmetto quante giorni hai fatto il giro di Marrakesh? tre giorni tre giorni no non posso più arrivare al Chicago con il jeep o con il minibus? col bus e poi con la jeep fino a un certo punto con il bus perché tu hai andato a Marzouga e dopo a Chicago non è possibile hai fatto due notte nel deserto non è possibile abbiamo dormito prima a Marzouga poi siamo ripartiti in hotel siamo andati nel deserto e abbiamo dormito a Chicago Chicago è stato un deserto è davvero non è possibile vicino all'Algeria mi chiamano a Marzouga a Marzouga a Cedri a Cedri Chicago è il deserto Marzouga qui 60 km di Cedri a Cedri a Cedri a Cedri a Marzouga a Cedri sono due deserti da Verso ah no no noi siamo stati sotto qui a Cedri 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 a Marzouga a Cedri 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 No, ho detto che ti fa senza pelle. Quando ne vuoi? Skin, ma se vuoi? Skin, no? No. This is skin. Son. Ah, you can take it away. Ok, ok, ok. Stop, stop, stop. Ok. Metti i vostri... Yeah, how much is that? 20, 20 dirhams. 20, merci 50,000. Mmm, mazza buona. Buonissimi. Io non lo so come è possibile, ma il pollo qua, però, fai fai, è buonissimo. Guarda, questa è arrivata la polizia, guarda là. Tutti che stanno per scappare. No, passa l'acqua. Com'è che a quest'ora... Eh, ma no, a quest'ora un sacco di pesciolini. Stava forzato a mandare la polizia. Tutti quanti, pure che li va sotto, stanno scappando. Ma a quest'ora, evidentemente, sono arrivati qualche... i pescherecci e... Magno, ma vedi che trassi, ma vedi che trassiamo sta bene. il costo di carne lo vuoi no? no no voglio mangiare qualche cosa